Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso, code a tratti tra Barberino e Incisa Reggello. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peritola. In direzione Pisa, code tra Prato Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Firenze per lavori, due chilometri di coda tra la diramazione Fisa Livorno e Ponte d'Era Ovest. Code in uscita a Cascina, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Sulla A12 per lavori è chiuso fino alle 20 in entrambe le direzioni il tratto tra l'allacciamento per l'Aurelia e la barriera di Rosignano. La viabilità cittadina a Firenze e il lungarno della Zecca Vecchia, restringimento di carreggiata a causa incidente. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!